Buonasera e bentrovati a Motore Salute Tg. Morte precoce il movimento la previene. Fare attività fisica regolare e costante può salvare da una morte precoce e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. A confermarlo è una recente ricerca canadese i cui risultati dimostrano che mezz'ora di camminata per 5 giorni a settimana potrebbe evitare un decesso precoce su 12. Secondo un recente studio internazionale, le persone che si dedicano ad un esercizio fisico 5 giorni a settimana per 30 minuti riducono in modo significativo il rischio di morire prima del tempo e di sviluppare malattie cardiache. Lo studio che ha seguito 130.000 individui in 17 paesi, ricchi e poveri, ha scoperto che se si va in palestra o si cammina anche per lavoro o si fanno lavori domestici e giardinaggio, si riesce ad allungare la vita e si riduce il rischio di ammalarsi. I ricercatori, coordinati da Scott Lear, specialista cardiologo dell'ospedale di St. Paul in Canada, hanno anche trovato la cosiddetta risposta di dose. Più le persone fanno movimento, maggiore è la riduzione del rischio di malattie cardiache o di morte anticipata. Lo studio inoltre non ha registrato alcuna controindicazione associata a livelli molto più elevati di attività fisica, più di 2000 minuti o più per oltre 41 ore settimanali. Camminando per soli 30 minuti per 5-6 giorni la settimana si conseguono notevoli vantaggi e un'attività fisica anche superiore si associa a rischi ancora più ridotti, ha detto Lear, in un commento sui risultati pubblicati dalla rivista scientifica The Lancet qualche giorno fa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che gli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni facciano almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità durante la settimana ed esercizi di rinforzo muscolare almeno due giorni a settimana. Ma gli esperti stimano che quasi un quarto della popolazione mondiale non raggiunga i livelli raccomandati.